Sono zio e nipote, rispettivamente di 43-20 anni, i due malviventi finiti in manette lo scorso sabato sera per rapina in concorso e lesioni personali aggravate, vittime della brutale aggressione consumata all'interno di un appartamento di Salleo, due donne di origini cinesi di 54 e 56 anni, entrambe prostitute. I due banditi nel pomeriggio di sabato erano entrati nell'appartamento delle donne, ma invece che chiedere una prestazione sessuale, le avevano prima picchiate con calce e pugni, poi minacciate al collo con un coltello ed infine le avevano costrette a consegnare alcune centinaia di euro. Una delle due donne era riuscita a scappare, portandosi via parte dell'incasso della giornata, circa 6.000 euro, l'altra invece era rimasta all'interno dell'appartamento. A lanciare l'allarme erano stati vicini di casa, sul posto erano così intervenuti i carabinieri di Arezzo, che avevano rintracciato e fermato i due rapinatori, arrestati in flagranza di reato su mandato del PM di turno. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti per rapine e spaccioli stupefacenti. All'interno dell'appartamento i militari hanno trovato una delle due donne in gravissime condizioni, mentre l'altra, anche lei ferita, è stata rintracciata poco distante con una borsa contenente oltre 6.000 euro, denaro ritenuto provento dell'attività di prostituzione, posto così sotto sequestro. Le due donne hanno riportato gravi traumi facciali, sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. I due rapinatori si trovano invece presso la casa circondariale Aretina di San Benedetto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.